Magnomizzatore Sti nomi incredibilmente incredibili però Dobbiamo spegnere questo affare Select per potenziare E' vero che ogni cavolo di volta sto gioco Cosa facciamo? Facciamo uno di energia dai Non mi ricordo neanche cosa ho messo l'altra volta Ok questi cosi Si possono distruggere Facciamo cambio Ma ok no Per un attimo ho pensato che potevo prenderli Non è che c'è qualcosa qui? Tipo un oggetto segreto? No di solito Li mettono all'inizio livelli proprio per Per fregarti Queste cose Prendilo Ok Ok questo non si distrugge Ah si si distruggeva solo che Ci ha pensato un attimo la serie Ah già è vero scusami Così Si è accorto dopo che doveva essere distrutto Ecco fatto Bello lui Aia Comunque sono contento di sapere Che non sono solo io che avevo problemi con sto Che ho problemi con questo gioco E che anche voi avete detto che questo gioco era terribile Aiaiaia Cos'è sta Sta mucchiata Aspetta Che anche voi avete detto che questo gioco era terribile col framerate Ed ecco fatto Perché a livello di meccaniche comunque gira bene Nel senso Quando Siberius usa questo attacco Comunque lo fa bene Nel senso Il framerate funziona È quando ci sono tanti nemici a schermo Che il gioco Inizia a svalvolare Brutalmente Ecco fatto Continuiamo a distruggere poi tutto quello che Ecco Quello che vediamo Che da Madonna mia Che volo si è fatto Via Vieni qua Mamma mia Quello lì Non so come Che volo abbia fatto quello là Che si è beccato una cassa addosso Ed è Ed è esploso La cosa buona ed incredibile è che Aia Bene o male quando inizia a spammare I nemici poco ci possono fare Siberius Sicuramente Invece Quando fa quell'attacco qua Ti permette di lanciare via I nemici Che è una bellezza E ci sono punti in cui I nemici muoiono con un colpo Quindi Tutto di guadagnato Voglio dire Va bene Proseguiamo Guardali Guardali che ne arrivano altri Madonna mia Aspetta Aia Dai Ste barriere Delle palle Eh Voglio buttarti di sotto E sappi che Lo farò In qualche modo Ok Uno è andato E due è andati Ho raggiunto il mio obiettivo di oggi Ecco fa la bellezza dell'instant kill Dove è andato l'altro Boh è scomparso Meglio La bellezza degli instant kill Madonna santa Allora Ma Ah giusto che Eravamo Sotto terra E stava nevicando Guardalo Guardalo che si muove E' un'astronava aliena Sarà più difficile del previsto Chi è distrutto Boh Pensavo ci fosse un nemico dietro io Sarà più difficile del previsto E quando mai è stato facile Bob Suggerimenti Attenzione Crollano Sbrigati prima che crolla Bob Ecco fatto Sbrigati Bob Vienimi vicino Che sennò cadi Corri Senza il guardiano Questa macchina è fuori controllo E beh Effettivamente Non è stata una bella idea Distruggere il guardiano Senza farci dire Come fermare il tutto Cos'è? Attenzione ai raggi Ho capito Che palle Ste barriere Maledizione Vola di sotto Vola di sotto Vola via anche tu Mamma mia Dove e come devo pass- Come e dove devo passare? Ecco fatto Dove sei? Dove sei? Aspetta Ecco fatto Non ho idea di cosa devo fare Che devo fare? Gioco Ah ma ci stiamo muovendo Non lo so Ah ok si ci stavamo muovendo Allora Aspetta Devo fare cambio Devo darlo a Bob Perché Bob Non ne ha neanche uno Ma soprattutto Dove vai? Ne può fare due lui Dio mio Il framerate Porca troia Che volo che si è fatto Dio mio ma Sto gioco Allora Partiamo da un presupposto Non è il mio computer Il problema Sappiatelo Il mio computer Funziona benissimo Con questi tipi di giochi Perché tutti quanti Gli altri giochi Vanno perfettamente Questo gioco Dio mio Ok non l'ha rotto Questo gioco Dio mio C'ha un problema Di framerate Terrificante Calmo Sbrigati Trovo un modo Per liberare Gli scienziati Quali scienziati? Ah Quelli là sotto Ma scusami Siberio? Siberius? Ah A parte che non ho capito Voi perché rimanete fermi? Boh guarda Non lo so Magari adesso Falliamo la missione Perché non abbiamo salvato Gli scienziati Ti Salta Ti immagini? Come usciamo da qui? Non lo so Continua a spaccare Fai quello che ti riesce meglio Ma a parte che In teoria Noi non dovremmo scendere Stiamo salendo Fai quello che ti riesce meglio Bob Continua a spaccare Tutto Prima che crolli il ponte Prima che crolli il ponte Che cavolo di Che palle Perché c'è anche lui adesso Lo scudo Non ce l'ha mai avuto Lo scudo Lui Perché mi devi fare questo? Dai Proiettili merdosi Beccati questo Sono scocciato di voi Vi odio Dai beccami Bravo Perché? Ok è scomparso Sto dicendo Perché Allo scudo Continuamente Quello Perché? Mi devi fare questo Beccati questo Stronzo Ma quei due là Sono morti? Oh Meglio per me Ma Tu devi Fare il giro Arrivare qui da me Non Non ho capito Facciamo cambio Con Siberio Visto che Lui ha appena usato Il suo attacco speciale E quindi L'abbiamo consumato Perfetto Vediamo di qua Se c'è qualcosa Non c'è assolutamente Nulla C'è da dire Che questo gioco Non ti dà Neanche Un momento Fra un attacco E l'altro Parliamo anche Del frame rate Però Porca miseria Siamo arrivati? Non credo Sì siamo arrivati No forse no È solo un ascensore Bello Quanto mi manca Per salire di livello? Giusto per sapere Non lo sappiamo? Perfetto In realtà Lo so Mi manca poco Della linea blu Per carità Però Infatti strada Per non essere investita Dal masso Quale masso? Quel masso Anche se non è un masso Ma è una palla Di metallo Ed energia E probabilmente Uranio impoverito Siamo salvi? Ok no Pensavo che sarei dovuto Andare anche di là Magari c'era un oggetto Ma ne dubitavo L'abbiamo già preso Quello segreto Cos'è? Una lastra di ghiaccio Questa? Tanto Siberio È a posto Con se stesso In questa zona C'è la neve C'è il fresco Altra boss fight? Cos'è? Rimuovi i bulloni Per finire Ah Escono E poi stacco E poi stacco la turbina Escono uno dopo l'altro Ok aspetta Aspetta Triangolo Dai La madonna Quanto ci vuole Madonna mia Quando iniziano ad arrivare Sti robottini Allora facciamo una cosa Facciamoli accumulare Poi Attivo l'attacco Non posso neanche Togliere il bullone Finché ci sono i nemici Va bene E allora Liberiamocene subito Dove sei? Dai Crepaci Oh Ok Uh Di nuovo lui Dai Levati Siberio Porca miseria Guardate che inizia A oscillare Sì però Quanto ci vuole Togliere sti bulloni Bob Ne mancono Ne mancono A parte chi ti ha detto Di stare fermo Scusami Dov'è? Dov'è il tizio Che spara Scusami Ah Eccoti Ciao Ah ecco fa Da quando tu hai una barriera Non ce l'hai mai avuta Fino a tutti i livelli Prima Maledetto Infame Allora io Aspetterei un attimo Usare la super Perché Metti caso Che appare Un'ordata Di quelli grossi Almeno Gli facciamo subito Danno Per fortuna Che abbiamo aumentato L'energia Quello sicuramente Dai Smetti di tenere La difesa Alta Maledizione Ecco fatto Bravo Bobby Porca miseria Dai Togli altro bullone Sperando che non arrivi un altro Di quelli che spara Però è arrivato uno Di quelli grossi Dai Almeno ho fatto bene A tenere da parte Il La super mossa Allora facciamo una cosa Seguimi Forza Forza Facciamo così Oh Finalmente Vediamo se Perfetto Il tizio là in fondo Neanche me lo conta Resta là eh Mi raccomando E via Il magnomizzatore Quindi Siamo a posto Ah Non capivo Non capivo Che era la guardiana Dentro Sì La miseria Ah non ho visto Quanti punti Ho schiacciato X per mandare avanti Vabbè Abbiamo contenuto Un po' di punti E stavolta Zero sconfitte Ovviamente I danni Allora Mister incredibile Per Quanto Porca Di quella miseria 36 punti Vabbè Siberia Sto giro Neanche l'abbiamo calcolato Poraccio Però Almeno abbiamo aumentato Di uno Tutti quanti Farei L'incredischianto Per Mister incredibile E La super No L'aeropattino Per Siberio Potenziamola al massimo Che quello Lancia via i nemici Die Grazie a tutti.